Ciao, sono la Delc, benvenuti in un nuovo video. Direte, cos'ha di particolare questo trucco? È un semplicissimo smokey eyes? Esatto! Allora, qual è la particolarità di questo video? Innanzitutto volevo farvi di nuovo un tutorial sullo smokey eyes perché è uno dei trucchi che mi viene richiesto più spesso. Avevo già fatto in passato un tutorial, però mi sono ricordata che era uno di quelli speechless, quindi senza tutta la mia parlantina dietro e ho pensato che invece, essendo una tecnica di trucco occhi comunque molto ambita e anche una tecnica che preoccupa tantissimo, ho pensato di fare un nuovo video, di accompagnarvi con la mia simpatica vocina che vi parla sotto, anzi non è che vi parlo sotto, vi parlo proprio durante, ma mi è venuta in mente una cosa ganzissima, cioè di farvi durante il tutorial una serie di vero-falso che riguardano lo smokey eyes. Questo perché lo smokey appunto è una tecnica che è avvolta dal mistero più totale, perché c'è gente che lo vede come un obiettivo che non riuscirà mai appunto a raggiungere, non lo so, è una cosa che spaventa. Oppure all'opposto è preso molto sotto gamba, quindi per questi motivi ho pensato che potesse esservi utile un video in cui vi do delle chicche, delle perle di saggezza sullo smokey eyes, sulla base delle mie conoscenze, della mia esperienza e quindi appunto troverete nel tutorial una serie di affermazioni per le quali vi chiederò se è vero o falso quello che sto dicendo e ovviamente vi darò anche la risposta. Quindi non voglio rubarvi altro tempo stando qui a chiacchierare inutilmente, vi lascio immediatamente al tutorial e spero tantissimo che questo video vi piaccia e vi risulti anche più simpatico del solito. Iniziamo subito con i vero-falso in tema smokey eyes. Quando realizzo uno smokey eyes prima faccio gli occhi e dopo realizzo la base, vero o falso? In questo caso assolutamente vero. Realizzare prima gli occhi e successivamente la base è una vera e propria furbata in questo caso, perché andando ad utilizzare degli ombretti neri sicuramente potrei avere un po' di fallout sul viso, quindi se la base la vado a realizzare successivamente agli occhi posso andare sicuramente a correggere con uno struccante il viso nel caso ci siano dei residui di polvere di ombretto. La prima cosa che mi serve è un ottimo primer occhi, io utilizzo il mio fidatissimo primer potion che ho in questo caso nella versione anti-aging. Il segreto per far sì che lo smokey eyes non vada nelle pieghette è utilizzare pochissimo prodotto per volta, anche se come dico sempre questa è una regola che vale per tutto, quindi se procediamo sempre con poco prodotto siamo sempre a tempo ad aggiungere, mentre invece andare a togliere il prodotto in eccesso è sempre più problematico. Stendo bene il primer con il dito e lo porto anche sulla palpebra inferiore, faccio in modo che sia veramente ben assorbito dalla palpebra. Seconda cosa molto importante è quella di asciugare completamente la palpebra per andare a lavorare su una zona ben asciutta e ben levigata, quindi che cosa faccio? Ricorro ad una cipria traslucida, questa è la mia affidatissima H di Make Up For Ever, la prelevo con un pennellino piccolo, elimino benissimo l'eccesso e vado ad asciugare il primer che ho applicato, quindi sia sopra che sotto. Potete verificare con il vostro polpastrello che la parte che andremo a truccare sia perfettamente asciutta e levigata. Se non siete soddisfatti ma sentite ancora un pochino di umidità sul dito potete procedere con un nuovo strato di cipria, ma mi raccomando veramente uno strato sottilissimo. Non a caso ho scelto una cipria traslucida perché ovviamente dovrò andare ad applicare sopra non solo delle polveri ma anche delle altri strati di prodotti fluidi, quindi ovviamente non potevo utilizzare una cipria minerale, sulla quale vi ricordo non si può riintervenire con dei prodotti fluidi. Nel primo video in cui vi mostravo la mia tecnica per realizzare lo smokey eyes utilizzavo il jumbo pencil di NYX. Questa volta voglio proporvi un'alternativa e andrò a realizzare la base fluida nera della mia palpebra mobile utilizzando l'eyeliner in crema di Make Up Forever, questo è l'acqua black, un eyeliner che io adoro, adoro tantissimo e quindi oggi vi mostrerò anche un utilizzo diverso di questo eyeliner. Ne prelevo un pochino con la mia spatolina in modo da poterlo lavorare meglio e lo vado a piazzare sulla mia flat in questo modo. Dopodiché vado a prendere un pennellino con le stetole piatte a lingua di gatto come questo e vado a stendere il mio eyeliner su tutta la palpebra mobile. Mano a mano che salgo cerco di dare una parvenza di forma anche se non è necessario essere troppo precisi in questo caso, comunque cerco di seguire diciamo l'anatomia del mio occhio e dare una sorta di tondeggiatura, si dice tondeggiatura, non so nemmeno. Mi devo assolutamente sbrigare perché altrimenti l'eyeliner si asciuga e non si muove più, quindi prendo un pennellino non da sfumatura ma con le stetole ampie ma allo stesso modo piatte, parto dai bordi e sfumo il prodotto e poi mi sposto proprio anche vicino alle ciglia in modo da alleggerire anche la palpebra ad un eventuale prodotto in eccesso. Vedete come già è super intenso questo nero quindi non c'è veramente una base che batte questa intensità. Questo passaggio ha introdotto perfettamente il secondo vero o falso, ovvero posso realizzare uno smokey eyes anche senza una base in crema scura, nera. Falso, falsissimo, è impensabile che un ombretto nero in polvere da solo riesca a crearvi un effetto come questo, quindi non potete prescindere da una base scura, potete utilizzare un eyeliner in gel, potete utilizzare un matitone, potete utilizzare un ombretto in crema nero, potete utilizzare qualsiasi cosa vogliate ma purché sia una base cremosa nera. A questo punto lascio un attimo in pace la mia palpebra mobile in modo che comunque questo eyeliner si aggrappi benissimo alla pelle e procedo con gli ombretti nella parte della palpebra fissa. Andrò a prendere gli ombretti per continuare il mio smokey eyes dalla Sweet Peach di Too Faced e il primo che prendo è questo ombretto opaco bianco che si chiama esattamente White Peach, lo prelevo e lo vado ad applicare sotto, esattamente sotto il sopracciglio e nello specifico soltanto nella parte finale, quindi non raggiungo la zona sotto la testa del sopracciglio, mi fermo diciamo qui, a metà. Poi applico questo che è un cremino, infatti si chiama Peachy Sand Cream e lo vado ad applicare proprio sotto il colore più chiaro che ho applicato prima e in questo caso raggiungo bene anche la testa del sopracciglio, quindi vado proprio a riempire anche tutta questa zona, in quanto ovviamente non devono esserci parti di pelle senza ombretto, quindi ovviamente vado ad utilizzare un colore che si fonde perfettamente con il mio incarnato e che però mi dà la sicurezza che non ci siano delle parti di occhio senza ombretto. A questo punto prendo un bel pennello da sfumatura e prendo il famosissimo ombretto color biscotto, quindi nel mio caso è purè dalla Sweet Peach, quindi un marroncino che ricorda proprio i biscotti tritati, lo prelevo in piccolissima quantità, scuoto bene l'eccesso e che cosa faccio con questo color biscotto? Inizio a applicarlo nella mia piega e a dare all'occhio una forma per liftarlo, quindi per tirarlo verso l'alto quello che faccio io è fare dei movimenti che vanno dall'angolo esterno dell'occhio verso l'angolo interno, quindi in questo modo e poi mi sposto sfumando verso il sopracciglio una volta che sono soddisfatta del colore che ho applicato inizio veramente a sfumarlo e a fare in modo che si perda verso l'alto e ci sto tanto a sfumarlo, cioè non si può pretendere che venga fuori uno smokey in due minuti questo mi introduce un nuovo vero e falso, ovvero lo smokey eyes è una tecnica di trucco occhi molto rapida falso? no, lo smokey eyes è una tecnica di trucco occhi che richiede un sacco di tempo, soprattutto per sfumare fatto questo è il momento di passare all'applicazione dell'ombretto nero in polvere io lo prelevo dalla Shade & Light Eye di Kat Von D quindi questa scialda quindi prelevo il prodotto dalla scialda elimino l'eccesso e vado ad applicarlo tamponandolo sopra all'ombretto non è un ombretto in crema ma è un eyeliner, vabbè, comunque sopra la base in crema che avevo realizzato prima tampono benissimo tutta la zona e quando sono sicura di aver tamponato bene tutta la palpebra mobile inizio a sfumare verso l'alto senza prelevare altro prodotto una volta che sono soddisfatta della sfumatura che ho dato al mio ombretto nero andrò a scegliere un colore di transizione da applicare tra il nero e il famosissimo biscotto il colore di transizione che appunto transiziona il colore che transisce il colore che sta tra il biscotto e il nero ovviamente è un marrone e prendo sempre dalla paletta di Kat Von D questo marrone opaco lo prelevo con un pennellino da sfumatura e lo vado ad applicare appunto proprio tra i due colori e poi sfumo, sfumo, sfumo e nel frattempo mi viene in mente un altro vero falso lo smokey eyes è una tecnica di trucco occhi che richiede l'utilizzo di un solo ombretto falso come avete visto gli ombretti che ho utilizzato sono tantissimi sicuramente il colore che prevale è uno in questo caso il nero non mettete via i prodotti perché non abbiamo finito dobbiamo passare alla palpebra inferiore riprendo un pochino dell'eyeliner in gel di Make Up For Ever che ho utilizzato come base cremosa scura e lo vado ad applicare sulla palpebra inferiore lo sfumo per fare in modo che la linea non sia netta dopodiché con un pennellino angolato lo vado a fissare con l'ombretto nero e questa è la parte in cui potrebbe esserci più fallout in assoluto quindi sicuramente ci aiuta il fatto di non aver fatto la base prendo un pennellino a penna e sfumo benissimo in modo da evitare di ottenere una linea netta e continuo la sfumatura dell'ombretto nero riprendendo un pizzico di questo marroncino e quindi ci sono andata bella intensa anche sotto senza risparmio proprio quindi nel mentre che suonavano le campane a più non posso io ho realizzato la base con delle tecniche normalissime niente di particolare unico accorgimento come abbiamo detto prima realizzarla dopo aver fatto gli occhi o comunque sia dopo aver terminato con le polveri nere è una cosa molto molto furba perché si evitano tante cose noiose come le correzioni quello che dobbiamo fare adesso è andare a fare una bordatura interna per la bordatura interna potrei utilizzare una matita super nera come per esempio questa che è l'acqua XL di Make Up For Ever potrei utilizzare la perversion di Urban Decay che è un'altra matita nera intensissima che io amo ma oggi andrò a realizzare la bordatura interna sempre utilizzando l'acqua black quindi l'eyeliner in gel di Make Up For Ever mi raccomando ovviamente meglio riempite la rima interna meno color pelle si vede più bello è l'effetto dello smokey eyes e qui sorge un altro dilemma devo realizzare una bordatura nera interna in qualsiasi caso sia che io abbia un occhio piccolo sia che io abbia un occhio grande falso perché se avete un occhio piccolo io vi sconsiglio di realizzare la bordatura nera nella parte inferiore quindi fate l'infoltimento infracigliare realizzando la bordatura interna nera sulla rima interna superiore ma non su quella inferiore perché altrimenti vi chiuderà ulteriormente l'occhio quindi in questo caso appunto non è consigliata però allo stesso tempo vi sconsiglio di realizzare una bordatura interna bianca seguo a ruota un altro vero falso ovvero lo smokey eyes è una tecnica di trucco occhi che va bene per qualsiasi tipologia di occhio questa cosa è vera nel senso che si tratta comunque di una tecnica che può essere utilizzata da tutti ovvero da chi ha l'occhio infossato da chi ha l'occhio incavato da chi ha l'occhio sporgente da chi ha l'occhio regolare più che mai quindi veramente è una tecnica che si presta per tutti i tipi di occhio ma vi do un'altra chicca così un vero falso dietro l'altro in questo caso con lo smokey eyes è vietato applicare l'eyeliner è falso cioè non è vietato applicare l'eyeliner se lo volete realizzare lo potete realizzare diciamo che lo smokey eyes di per sé non lo prevede però non è che è vietato niente è vietato quindi se vi piace concludere diciamo il trucco smokey eyes con un eyeliner potete tranquillamente farlo io in questo caso non lo faccio perché tanto nel mio caso con l'occhio bello infossato che mi ritrovo quello che vado a fare io in questo caso è passare alla fase del mascara e quello che mi serve è un mascara bello potente perché uno smokey eyes che si rispetti si conclude con delle ciglia veramente super volumizzate super allungate super incurvate quindi questo mi porta a collegarmi ad un altro ovvero falso ovvero con lo smokey eyes si applicano sempre le ciglia finte è falso nel senso che è vero che lo smokey eyes deve essere concluso con delle bellissime ciglia allungate però se avete la fortuna di avere già delle lunghe ciglia delle ciglia lunghe delle lunghe ciglia potete optare tranquillamente per l'applicazione di uno o due mascara magari ed evitare così le ciglia finte il mascara che ho scelto per concludere questo trucco è il Sinescope di Sephora quindi uno degli ultimi mascara usciti in casa Sephora e lo vado ad applicare utilizzando il mio aggeggino secondo me questo mascara combinato con l'aggeggino è veramente il top del top e vi spiego anche perché se ci fate caso allora questo mascara ha la caratteristica di avere uno scovolino super flessibile e quindi si presta tantissimo proprio per spingere bene sulle ciglia e con l'aiuto dell'aggeggino che mi fa da base il risultato è fantastico c'è proprio effetto ciglia finte proprio le prendo bene dalla radice e porto su bene le ciglia pulisco bene l'aggeggino perché lo andrò ad utilizzare anche sulla rima inferiore e è rischiosissimo utilizzarlo sporco perché si rischia veramente di sporcare tutta la parte sotto quindi mi raccomando pulitelo nel frattempo che aspetto un attimo che mi asciugli il mascara vado a fare un po' di contouring e prendo la mia hula la mia hula che è quasi finita sto veramente raschiando il fondo lo smokey eyes è un trucco opaco non si usa l'illuminante è falso perché è falso perché comunque si è vero lo smokey eyes è un trucco opaco però innanzitutto come vi dicevo prima niente è vietato quindi niente vi vieta di dare un tocco di illuminante anche alla parte dell'occhio guardate mi si sta incollando l'occhio comunque quello che faccio io è evitare il punto luce sotto il sopracciglio per evitare appunto di dargli un carico troppo luminoso mi limito quindi ad illuminare l'angolo interno dell'occhio e poi ovviamente ad applicare l'illuminante sulle parti del viso che voglio illuminare l'illuminante che applico è il pro light fusion sempre di make up forever mi fondo bene con la terra con cui ho fatto contouring e poi tra i due colori andrò ad applicare il blush ok a questo punto non me ne sono dimenticata vado ad applicare il mascara sulla parte delle delle ciglia inferiori e per avere un risultato ottimale scarico mamma mia quanto ce n'era scarico bene il pennellino lo scovolino del mascara lo smokey eyes è già abbastanza intenso nella palpebra inferiore quindi non importa che applico il mascara sulla rimacigliare inferiore falsissimo perché come è importante sopra il mascara nello smokey eyes è altrettanto importante sotto soprattutto perché se avete un occhio piccolo e avete intensificato come ho fatto io la parte sotto perché così vuole la tecnica utilizzando il mascara vi darà una maggiore apertura dell'occhio quindi è molto importante applicare il mascara anche sotto non ve lo dimenticate mai anche se per altre tecniche magari solitamente non siate abituati a farlo però per lo smokey ci vuole blush con lo smokey eyes posso applicare qualsiasi tipo di blush è falso cioè a mio avviso è falso perché lo smokey eyes è un trucco che si basa sui toni del marrone e del nero e del marroncino quindi a me per esempio non piace accompagnarlo con dei blush pescati o dei blush troppo fucsia quindi quelli che prediligo io sono per esempio o dei rosa tipo rosa antico magari un pochino satinato oppure come in questo caso il blush che ho scelto che è una specie di color cannella quindi qualcosa che comunque richiama il caldo dei marroni e che mi piace tantissimo come si abbina appunto a questo look prelevo pochissimo prodotto tamponando la scialda con il pennello e vado ad applicarlo partendo quindi dalla zona centrale del viso salgo leggermente andando a fondere l'illuminante con la terra del contouring lo smokey eyes è un trucco opaco e quindi è giusto concluderlo con delle labbra opache assolutamente vero è quello che infatti andrò a fare proprio adesso e nel mio caso non solo ho scelto una tinta opaca ma ho scelto una tinta tendente al nude in modo che appunto l'importanza di questo trucco l'attenzione sia tutta concentrata sugli occhi perché appunto quando si realizza uno smokey eyes fatto bene è giusto dare l'importanza che merita allo sguardo quindi bisogna fare in modo che l'attenzione si concentri sullo sguardo e lasciare quindi le labbra un pochino più diciamo in secondo piano quindi un pochino meno importanti quella che vado ad applicare è la tinta labbra sefora la cream lip stain e la tonalità è la numero 02 e la tonalità Per concludere vi lascio questa ultima perla, lo smokey eyes è una tecnica molto facile da realizzare, falso, anche questa è una cosa falsa, lo smokey eyes non è affatto facile, non va sottovalutato, però attenzione non è impossibile, come tutte le cose bisogna mettersi lì, buttarsi, provare, riprovare, quindi non arrendetevi, non tirate remi in barca, non cominciate a dire non ce la farò mai, anzi vorrei che proprio vi metteste lì a cimentarvi con questa tecnica, se vi piace, se è uno dei vostri obiettivi da raggiungere, imparare a fare lo smokey eyes, perché veramente non è affatto impossibile, però non si può pretendere di farlo in poco tempo, non si può pretendere di saperlo far subito, l'importante è avere appunto i prodotti giusti, che non sono assolutamente quelli che ho utilizzato io, ma possono essere anche altri prodotti, io vi ho solo mostrato appunto quelli che sto utilizzando io in questo periodo per realizzare lo smokey eyes, e quelle che secondo me soprattutto sono le texture più giuste per realizzarlo. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche consiglio utile, spero che sia risultato simpatico con questa cosa del vero falso che mi è venuta in mente così all'ultimo minuto, e spero di avervi tenuto anche un po' di compagnia. Se così è stato, se vi è piaciuto tutto, se siete felici, mettete un bel pollice in su così sono felice anch'io, e se ancora non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche, così non vi perderete i prossimi contenuti. A questo punto non mi resta che mandarvi un bacio gigantesco, e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video, mi raccomando non ve lo perdete. Ciao!